Cristian e Gaia Bellissimi, bellissimi e bravissimi Cristian e Gaia invece ci fanno mirare una bella mazzurca se non erro Quante parti sono? Cinque Benissimo, siamo pronti con Mascot Miss 48 Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Signori per voi Cristian e Gaia Come dire buon sangue non mente ma non mente proprio Complimenti Signori